Ora si fa sul serio, tremendamente sul serio, anche se finora non si è affatto scherzato. La settima di andata del massimo campionato di basket femminile vedrà i fari puntati sul palataliercio di Venezia, dove le lagunari della Reier ospiteranno il Gesam Lucca in un confronto davvero ad alta quota. Saranno infatti di fronte due delle formazioni che aspirano, con tanto di fatti alla mano, a contendere un posto al sole allo schio campione d'Italia, a Ragusa, che rimangono le due grandi favorite per lo scudetto. Venezia-Lucca sarà anche una sorta di derby tra ex, da una parte Beba Bagnare e Maya Ruziskova, dall'altra Francesca Dotto, che in riva alla Laguna ha ballato solo una stagione per poi tornare all'ombra delle mura. Si profila un match davvero interessante, sia sul piano tecnico che agonistico. Cinque vittorie ed una sola sconfitta al supplementare contro Schio sottolinano la forza delle lagunari, che con l'arrivo della talentuosa ala americana Christmas hanno trovato l'assetto giusto per competere anche in Euro Cup contro chiunque. Una squadra completa a Venezia, che qui vediamo nella gara giocata il 30 marzo scorso al pala tagliate, forte nel pitturato in cui troneggia l'ex Lemura Ruziskova, ben supportata da Formica e Sandri, e temibilissima dall'arco grazie alle buone mani di Fontenette, Bagnara, Carangelo e della stessa Christmas, con il play Caterina Dotto, che darà vita a un derby in famiglia con Francesca, sempre pronta a dare continuità alla manovra. Insomma, una brutta gatta da pelare, tanto che Lemura dovrà sfoderare una prova assolutamente perfetta per uscire in battuta e per proseguire la sua marcia a punteggio pieno. Palla 2, sabato sera alle 20.30, per una grande sfida.